Lotto numero 4 è una Ferrari Dino 208 GT Bertone 1989, uniproprietario colore originale, non soltanto originale colore ma proprio originale la verniciatura, è una Ferrari che ancora ha poco, è stata fatta a seguito della morte del figlio e in sua memoria, Enzo Ferrari propose questa Ferrari Dino tra le altre e il motore fu progettato dal figlio. 45.000 la base d'asta che deve essere ancora confermata, aspetto 45, 45, aspetto 45, aspetto 45, 45 confermati. 46 per il banco, 47 mi offri, 48 per il banco, 48 per il banco, aspetto 49 dai telefoni e dalla sala, chi offre 49? Aspetto 49, 49 confermati al telefono, 49 per il telefono, aspetto 50 dalla sala, aspetto 50 dalla sala, altrimenti aggiudico al telefono a 49, aspetto 50, chi offre 50? 49, 49 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3.